Ciao, sono Benedetta, segretaria del PSAC Lodi e ieri sera si è svolto l'incontro per i segretari tra le diocesi della Lombardia e della Toscana, durante il quale abbiamo avuto l'occasione di raccontare e condividere le relazioni all'interno dei nostri circoli e dei modi creativi in cui ci manteniamo in contatto in questo periodo. Abbiamo poi anche rinnovato la voglia di continuare a provarci e di avere dei progetti per i nostri circoli. Un abbraccio a tutti, ciao!